La scuola di Patamano, quindi i bambini che la frequentano, è un elemento fondamentale per le nostre attività, non solo sportive, ma per quello che è lo sviluppo di questo sport sul territorio. Quindi ogni anno mi saranno un po' più di fretta rispetto agli altri anni per motivi legati al calendario, perché abbiamo praticamente partite sabato questo, addirittura anche il 6 febbraio in trasferta, quindi abbiamo un po' complicato, cercato di rincastrare, tra quelle che sono le vacanze degli atleti, le esigenze, l'esistività dei bambini. Quindi speriamo che questa iniziativa sia anche e soprattutto un momento di allegria non solo per i nostri bambini, ma anche per chi è un po' più scoperto. Sì, sono stato reso partecipe dalla squadra di Patamano per questa bellissima iniziativa, perché credo che al di là che lo sport è un grande momento di negazione, fare anche qualcosa per i bambini un po' più sfortunati, perché credo che per noi è un onore di soluzione e abbastanza solidaria.